un attimo raga facciamo un attimo la copertina di questo video tipo oddio ciao a tutti ragazzi eccoci qui in un nuovo video davide nico video che forse sarà un pochino scuro no ma neanche troppo adesso perché vi assicuro che è davvero una pessima giornata c'è la nebbia c'è il scuro sono quasi le 5 in realtà e potevo registrare magari la mattina però non ho avuto troppo tempo e da un po' che non può da una settimana che non faccio video perché ho avuto tante cose da fare in questa settimana ma sono qua tranquilli ci sono e oggi faremo qualcosina qualche check e parleremo dei qualcosina sui prossimi eventi poca roba però ve lo assicuro comunque vi faccio vedere la giornata prima di tutto perché è veramente orribile ragazzi eccola qua come vedete fa un po' schifo e sono dove ci sono i murales soliti comunque fa schifo è una giornata brutta ragazzi oggi un vero schifo e niente comunque a parte questo ragazzi ovviamente noi siamo qui per aprire pokemon go eccoci qua apriamolo tac 1 2 vai e vediamo che ci sono una marea di pincer quindi deduco che è un nido pincer anzi ho fatto un check shiny ma non lo volevo fare quindi mettete like se volete che io faccia i check su questi pincer ho deciso avete messo like ok allora li faccio bravi mettetelo sì sì adesso adesso in questo preciso istante l'avete messo bravi facciamo i check su pincer vai un altro se trovo uno shiny pincer mi incavolo ma siccome avete messo like me lo sento li facciamo ma non è uscito lo shiny quindi bene bene grimer che potrebbe essere interessante shiny ragazzi ma niente vulpix altro interessante shiny facciamo anche cofing e barboa intanto che ci siamo niente shiny tra l'altro l'ora di barboa c'è già stata ma non l'ho praticamente fatta cofing no shiny non mi ricordo se non mi ricordo se l'ho già cliccato no e magica che l'hanno tra l'altro abbassato non so il motivo non è shiny quindi bando alle cianci ragazzi perché adesso vi faccio vedere che a parte vabbè leggendo intanto è venuto buio oppure alle 16 e 48 di solito era alle 5 è diminuito di 10 minuti non so il motivo vabbè comunque vediamo i miei ultimi shiny ragazzi cromatico che non ho troppo da farvi vedere se non il lucario che già conoscevate ho trovato un nidoran ma l'ho trovato da una missione non la missione di oggi con tutte le ricerche dedicate ai nidoran e poi mi hanno schiamato questi due pokemon meo shiny e charmander con la visierina del go fest shiny ragazzi bellissimi e oggi ho trovato due nidoran maschio shiny e un nidoran femmina shiny top davvero perché mi mancavano proprio questi due maschi una femmina e sono riuscito a trovarli nella giornata dedicata ricerca mirata ai nidoran eccetera eccetera ragazzi quindi poi faremo le evoluzioni assolutamente ma faremo oggi anche in questo video le evoluzioni fortunate questi nidoran femmina li scambierò poi devo darli a un mio amico e eccoci qua andiamo nel in questi in questo settore del mio box perché ho scambiato una marea di pokemon mi sono usciti tutti questi fortunati e siccome io faccio anche il pokédex fortunato li farò evolvere nella prossima parte di questo video assolutamente magari andrò a casa che sarà un pochino più comodo comunque qui oggi adesso volevo farvi vedere oltre a aver fatto i check con i murales eccetera ragazzi facciamo tre bei check sui golden pokemon shiny appena rilasciato appena no perché sono passati cinque giorni dall'inizio dell'evento ma lo sapete già ho pubblicato tutto su instagram la missione cattura cinque pokemon acqua l'ho già fatto ovviamente l'ho raccolta qua in paese da me girettino super tranqui e adesso facciamo i check insieme qui all'aperto in questa macchina con questa felpa rossa mi sto preparando a natale spero e non alla zona rossa mannaggia ragazzi vai 1 2 check su golden primo che non è shiny ed è 468 pl quindi non è neanche vicino al 100 per cento altro check niente shiny 468 ancora e non c'è 203 vediamo altro check terzo niente shiny ragazzi 486 ci sono invertiti i due numeri comunque niente ragazzi non ho trovato nulla di che ovviamente vendiamo queste missioni vediamo se c'è qualcosa di interessante qui e poi sgommiamo a casa fortissimo perché voglio fare tante evoluzioni ragazzi cinque bacche per cattura pokemon per delle bacche e cinque bacche per un pokemon che è se non sbaglio piplup quindi adesso la tengo lì ma non è che mi interessi più di tanto ragazzi e eccoci qui a casa ragazzi apriamo il gioco subito perché come ho detto prima oltre che fare i soliti c'è su sai duck che non è shiny e poi c'è qualcos'altro no ho un ligitung a casa che questo potrebbe essere shiny allora secondo me li da parte a cliff quindi sai duck arrivo scusate ragazzi devo cliccare il ligitung che potrebbe essere shiny niente non salta fuori il ligitung ragazzi intanto c'è stata un'invasione di campo da parte di mio fratello che non si vede si vede il braccio vabbè comunque dai mi lasci registrare per cortesia allora cosa volevo fare volevo innanzitutto evolvere in idoran e qualche pokemon fortunato ma anche farvi vedere le ultime catture tra cui come vedete ci sono i leggendari che purtroppo da noi è solo mesprit io con i mesprit sono super a posto e vi faccio vedere anche il motivo ho tre mesprit da scambiare e 2 96 per cento che non utilizzerò mai essenzialmente visto che sono tipo psico non hanno mosse troppo forti non li ho mai sentiti utilizzare in nessun modo da nessuno a parte qualcuno che l'ha maxato ma perché gli piaceva insomma quindi niente di che ma oltre a mesprit ragazzi abbiamo adzef che ho ottenuto tramite raid remoto mi hanno invitato eccoci qui stati uniti come vedete mi hanno invitato a raid e ne ho catturati uno che tengo che non è tanto forte ma vabbè e poi uno che tengo da scambio quindi ne ho catturati due c'era l'ora leggendare da loro io mi sono tenuto i raid remoti e mi hanno invitato grazie amici carissimi americani comunque oltre a questo andiamo finalmente a fare le evoluzioni che sono allora intanto questo nidoran femmina diventerà nidorina e poi nido queen fortunato così vado avanti anche con il pokedex fortunato ma ragazzi stavo pensando di non fare le evoluzioni fortunate in questo video perché alla fine sono evoluzioni banalissime quindi niente di che ma gli shiny ovviamente sì prima abbiamo fatto i check intanto che ci sono qui ovviamente la faccio prima abbiamo fatto i check su tre golden che non erano shiny purtroppo ho ancora un paio di giorni per trovarli se non mi sbaglio poi finirà l'evento e ne partirà un altro sicuramente perché a dicembre ci saranno tantissime cose tantissime novità ma ne parleremo in un altro video e andiamo subito ad evolvere scriviamo cromatico va così non ci sbagliamo tac allora di questi ho la femmina il maschio che questo non è male forse da far diventare nido king e poi quest'altro maschio quindi facciamo cromatico e ce la faccio e più nidoran giusto ok 3 e 3 ragazzi questo l'ho trovato selvatico se non mi sbaglio e non è molto forte questo mi avevano scambiato no gli ho cattolati tutti shiny cattolati tutti 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 da me quindi top ragazzi io direi che possiamo far evolvere questi di oggi che sono anzi anche questo 340 forse non era male facciamo 340 femmina e lo facciamo evolvere fino alla fine e poi il 361 maschio per vedere come sono shiny se vuoi vedere anche tu con quei piedi che si vedono nella camera perfetto ho attivato un aroma si sto facendo il video intanto nidorina shiny ragazzi ovviamente e facciamo nido queen che è sempre sul rosa tra l'altro non so se avete fatto caso ma si invertono i colori i maschi e la femmina shiny sono invertiti invece che essere normali si invertono i colori bello bello ovviamente la forma base poi le evoluzioni cambiano totalmente ma guardate che bello nido queen questo verde con le parti rosa veramente veramente bello e mi mancava soprattutto come vi ho fatto vedere la valutazione non è male è un 3 stelle 14 13 13 non è malvagio va benissimo e andiamo ad evolvere anche adesso ovviamente vado subito al dunque e all'ultima evoluzione per farvi vedere tutti i colori degli shiny che tra l'altro magari avrete già visto anche voi se avete fatto le evoluzioni avete già fatto questo evento ma io non l'avevo ancora fatti ragazzi quindi li facciamo nidorino che ormai conosciamo c'è stato anche con il cappellino nidorino shiny che si poteva trovare ma non in italia e adesso il migliore secondo me tra questi è voluto nido king che è veramente bellissimo shiny e tra un secondo capirete perché è veramente veramente bello tutti ne hanno parlato bene ed eccoci qua nido king bellissimo blu che è un blu chiaro azzurro quasi veramente veramente bello questo secondo me è un po il migliore tra tutti ditemi un po cosa ne pensate anche voi ragazzi ditemi se vi è piaciuto questo video dopo andrò a fare tutte le evoluzioni fortunate ragazzi che mi mancavano che visto che ci sono appunto gli scambi a fino a 50 50 km ne ho approfittato e come vedete ho scambiato parecchia roba che adesso questi li vedete solo i fortunati eccetera ma ho scambiato ho fatto avrò fatto 300 scambi tra tutto non dico che ne faccio 100 al giorno ma 50 li faccio tutti tranquillamente se mi metto dietro perché tutti i miei amici catturano cose io catturo cose e facciamo una marea di scambi quindi adesso mi metto dietro a fare tutte le evoluzioni ma noi ragazzi terminiamo qua questo video con il check shiny su caterpie che non è shiny e ci rivediamo in un prossimo video ragazzi ditemi come vi è andato il community magari l'evento la ricerca mirata di nidoran sia maschio che femmina ditemi se avete trovato qualche shiny anche se la tendenza era comunque due tre quattro shiny molti li hanno trovati fortunatamente e ditemi se avete catturato già mesprit che ce l'abbiamo noi qua in italia ma soprattutto se avete catturato uxi o azelf con inviti remoti ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video un saluto da davide nico e dal fratello di davide nico che che fa un po lo stupido ogni tanto ciao ragazze la prossima